Ecco il momento che preferisco, quando torno alla vita che amo di più. E finalmente riscopro il valore del tempo, grazie a Leggito in Wash. Due bucati insieme, i capi delicati come la mia bimba e tutto pulito in meno di un'ora. Oro più tempo per me ed un modo perfetto per trascorrerlo. Solo da Unieuro, LG Twin Wash ed il televisore LG 55 pollici 4K insieme a 87 euro al mese. Non è una lavatrice, è una rivoluzione. Unieuro batte forte sempre.